Il derby fra Brescia e Muzzanica 1-1, grande partita della Stefania Tarenzi, grande gol. Era un po' che non si giocava, però oggi è una grande gara e soprattutto un tuo grande gol. Sì esatto, abbiamo giocato proprio una grande gara perché abbiamo comandato noi il gioco fino al primo tempo, poi all'inizio del secondo tempo in area loro hanno avuto un rimpallo che fortunatamente sono riuscite a buttarla dentro. Poi dopo abbiamo reagito subito, mi è arrivata una palla alta, l'ho colpita al volo e è entrata, meno male. Comunque è stata una partita molto sudata e ci siamo meritate questo risultato. Addirittura in certi momenti della partita, magari anche dopo il gol, si aveva la sensazione che si poteva fare il secondo, si poteva vincerla anche addirittura? Sì, 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 secondo me era una partita che potevamo portare a casa i tre punti perché abbiamo comunque creato molto più noi di loro. Quindi questa vittoria vi dà soprattutto morale per poter continuare a risalire la classifica? Sì, sì esatto. Questa è una partita che comunque ci butta il morale alle stelle e quindi dobbiamo continuare d'ora in poi a vincerle tutte. Fin dalla partita di sabato dove c'è l'opposto del Brescia, cioè l'ultima in classifica, forse lì c'è il problema opposto, non sottovalutare, non prendere sotto gamba la partita? Esatto, sono proprio quelle le partite che comunque è anche difficile mantenere la concentrazione perché magari la prendi un po' sotto gamba e sono quelle le partite che comunque devi affrontare con la stessa concentrazione come con le grandi.